Musica Cari ragazzi, domenica scorsa il Vangelo ci ha ricordato Gesù che a due a due manda i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo. Li manda liberi da tutto, prendetevi solo un bastone e un amico. Li manda un po' come dei profeti, per non finire martiri. Quindi quante volte nella nostra vita ci indaffariamo, facciamo un mucchio di cose, cerchiamo di tenere dietro tutto, facciamo, 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 poi siamo stanchi e stravolti. Facciamo fatica a guardare più lontano, dire ma come si può vivere questa situazione in un modo diverso, un po' da profeti. Allora per non finire martiri, Gesù chiede ai discepoli di diventare profeti. Cercano di farlo, vanno ad annunciare il Vangelo, tornano e raccontano a Gesù tutto quello che hanno vissuto. La prima cosa che raccontano loro e quella che hanno capito meglio era il mandato che Gesù aveva dato loro. Andate a scacciare i demoni, che non sono i diavoletti con le corna e il forcone. Scacciare i demoni vuol dire lasciare che il Vangelo faccia scomparire il nostro egoismo, il nostro orgoglio, il nostro pensare a noi stessi, il poco interesse agli altri, il dimenticarci di Dio. Fare tutte queste cose che a un certo punto non ci rendono felici, ci tormentano dentro. Pensate un po', ragazzi. Allora, l'egoismo. Penso solo a me stesso. Dopo un po' sono contento. Assolutamente no. Cosa mi dice il Vangelo? Provo un po' a pensare anche agli altri. Quando riesco a metterlo in pratica, dimentica un po' me stesso. Mi tolgo un po' di mento, sapete, amare i ragazzi e togliersi di mezzo. Per mettere al centro qualcun altro. Ce lo insegna il Vangelo. Scompare il mio egoismo. Scompare questo spirito impuro. Pensiamo un'altra cosa, l'orgoglio. Quando mi arrabbio, ti minaccio, prometto di vendicarmi perché mi hai fatto qualcosa, sono contento, sono felice, sono pieno di uno spirito impuro. Sto proprio male. Non ho risolto nulla. Pensa, lasciare lavorare il Vangelo che mi dice, dai, si imite, dialoga anche se ci hai litigato, amalo, anche se ti è un po' difficile. Perché scompare quell'orgoglio, quella minaccia, quella voglia di vendicarmi. Quando mi dimentico di Dio, sono preso da un mucchio di cose. Eh ma, ho la partita di pallone, non posso mica venire a messa, ho quest'altro da fare, ho quell'altro a cui fare attenzione, non posso, non riesco. Alla fine, ma non ci manca qualcosa, o meglio, non ci manca qualcuno. Provo invece a vivere il Vangelo. Ricordati un po' di santificare le feste. Ricordati un po' ogni tanto di pregare, che non vuol dire recitare delle preghiere, ragazzi, ma vuol dire dialogare con Dio in intimità. Vedete, tanti spiriti impuri. Potremmo averne molti altri. Sono quelli che non ci rendono felici, apparentemente sembrano darci soddisfazione. Quando lasciamo il Vangelo entrare nella nostra vita, questi spiriti impuri vanno via come nebbia al sole. E siamo più felici. Ecco che cosa hanno scoperto i discepoli. Hanno visto la gente felice. Gesù è felice quando noi siamo felici. Tu sei felice quando un tuo amico è felice. Quando un tuo compagno di scuola riesce a realizzare qualcosa di bello e viene lodato per questo. Tu sei felice? O a volte invece sei un po' invidioso. No, no. Gesù è felice. Se tu sei felice, ecco perché è contento che i discepoli sono contenti. Però ci chiediamo, ma noi siamo proprio capaci di mandare via questi spiriti impuri? O continuiamo a viverli? Perché il Vangelo non è sufficientemente forte? Non entra fortemente nella nostra vita? E allora tutto questo ci stanca. E Gesù vede i discepoli stanchi. Vede la folla stanca, come pecore senza pastore. C'era gente che andava, gente che veniva. Lo vedo tante volte in parrocchia, sapete ragazzi. Gente che va, gente che viene. Gente che ricerca. Gente che stanca. Gente che è insoddisfatta. Gente che si mette, fa un mucchio di cose. Si stanca. E poi Gesù sembra dire. Ma io non applaudo il tuo fare, fare, fare. La vita vale mica perché fai delle cose. La vita vale di per sé. Vale perché esisti. Allora il Vangelo sembra ricordarci che abbiamo bisogno di senso. Non solo di seguire i sensi. A volte diamo da mangiare i sensi. Abbiamo bisogno di questo, di quell'altro, di quell'altro ancora. E poi rimaniamo con una fame di senso. Perché vedete a volte ragazzi essere un po' stanchi. Vuol dire anche fare fatica a trovare il significato delle cose che facciamo. Allora Gesù cosa dice loro? Venite in disparte. Che è un'altra parte del fare, 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 del realizzare, del pensare, del progettare. Vieni a riposarti un po'. Ma attenzione che il cuscino non sono le ferie, il mare, la montagna. Il cuscino è lui. Riposati in me, sembra dirci Gesù. Anche un cerino se ne stava in disparte su una scatola vicino a una candela. Era molto triste. La candela gli disse, ma perché sei triste? Ah, tu sei una candela. Duri molto tempo. Io sono un cerino. Mi accendono. E finisco subito la mia vita. E finisco subito la mia vita. Non valgo niente. Non sono importante. E la candela raccontò la storia al cerino. C'era una volta una candela accesa nel buio della notte. Essa era un faro per tutti i viandanti del mondo. Chiunque poteva scorgerla, anche dai luoghi più remoti. Quella luce calda e confortante li carezzava. Era davvero tanto, ma tanto importante. Una notte come tante, i viandanti ebbero però un'amara sorpresa. La luce della candela si spense. Del resto era una candela. Non poteva durare in eterno. Avrebbero dovuto prevederlo. Ci fu sconvolto, sconforto tra gli anime dei viandanti. Passarono alcuni istanti che parvero lunghi come secoli. Ed improvvisamente qualcuno si ingegnò. Chi ricordò che in soffitta aveva conservata una vecchia candela. Chi trovò una torcia, un umino. Persino scoprì nella casa un camino. Ma in me era tutto inutile senza un cerino. E fu così che nell'affanno di risolvere il danno qualcuno in tasca trovò un cerino. La tristezza avvolse l'anima del poverino. Conosceva bene la durata di un cerino. Ma la vita del mondo era in declino e allora lo usò per accendere un camino. Da quel momento e da quel camino ogni candela trovò fiamma. Ogni cero luce, ogni lume e scintilla. E nel giro di qualche secondo, scanditi come secoli dal mondo, la luce si riaccese a tutto tondo. E grazie a quel cerino il mondo venne salvato dal declino. Che storia incantevole, candela. E come si chiamava quel cerino? Ma come? Quel cerino lo conosci anche tu. Si chiama Gesù. Il cerino sorrise di una luce interiore che lo fece accendere con tanto amore e quella sua breve esistenza la trascorse nel dare realizzazione alla sua essenza. Ragazzi, in disparte, riposiamoci un po', ma la fede non va in vacanza. Curiamola nell'intimità con Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.